La Prandina, facciamo il caso emblematico su cui l'assessore si è preoccupato di sottolinearci la loro preoccupazione. Se i sindaci della provincia di Padova, nella loro maggioranza, nemmeno poi all'unanimità, ma nella loro maggioranza, riescono a trovare un'intesa per una suddivisione corretta su numeri compatibili con le loro realtà delle persone, la Prandina scompare come davvero una bolla di sapone. La Prandina esiste perché il prefetto di Padova, nel momento in cui nessuno, non solo offre o garantisce accoglienza alle persone, deve sistemare delle persone. Grazie a tutti.